Il termine inquisizione deriva dal latino inquisizio o indagine giudiziaria svolta con procedura australia. Regolamentato dai bostefici fin dal XIII secolo, la santa inquisizione ha esercitato la sua massa gran militare lungo l'arco di 600 anni, considerato che in Spagna, fa volita nel 1834. Adoperata agli inizi dalla Chiesa come sistema di conversione degli eretici, ebrei e musulmani, venne col tempo utilizzato per perseguitare fregoleria, figliaia e altri reati minori, rivenendo infine, nel corso del XVII secolo, strumento di persecuzione politica di massoni e liberi pensatori. L'opera del nostro ufficio, circondato dal massimo segreto, non concedeva le sue vittime diritti di sorta. I prigionieri venivano lasciati in isolamento, insistentemente interrogati, sottoposti a torture spesate come l'Aveglia o l'Agrossa, delle quali troverete alcuni e democchi nel nostro numero, e infine consegnati al braccio secolare per essere strangolati, bruciati e non soffitati. Le emozioni venivano celebrate come veri e troppe spettacoli di piazza, dove il popolo assisteva alla morte del condannato, dedicato a formandosi l'Ostantoria, con una rimaia, con i tempi torrenti alla diversità, e questo è il momento, otecato a fare. Grazie a tutti. 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 a tutti.